200, dosso vai, 100 Pronto? Si 5, 4, 3, 2 200, dosso vai, 100 Dosso vai, 100 Destra 4 per dosso vai, in sinistra 4 lunga 70 destri In sinistra 5, in sinistra 5 Per dosso sta in sinistro vai Subito destra 4, dosata, stacca per destra 1 Stacca per destra 1 In sinistra 2 meno ritarda In destra 3 meno taglia Per sinistra a destra 2 al cemento 10 Destra 1 Più Vai 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 Già va Può uscire? No Fanculo Buol Grazie a tutti. 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 Tornante sinistro 30. Grazie a tutti. Tornante sinistro 30. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.